Salve a tutti, io sono Stefano e oggi per videorecensione.com vedremo un'altra parte della guida all'acquisto di un Mac cioè parleremo dell'iMac L'iMac è un computer che è stato rivisto recentemente da Apple è stato ridisegnato, come vedremo poi in seguito con nuove caratteristiche, bensì ha solo due gamme quindi quella da 21 e quella da 27 possibili con Fusion Drive o senza cioè il Fusion Drive in pratica è un sistema di archiviazione un po' diverso dal normale perché ha sia un SSD e sia un hard disk un SSD di solito da 120 e un hard disk da 1 tera che fusi insieme, combinati insieme hanno la funzione di fruttare al meglio le prestazioni del computer quindi di utilizzare le applicazioni più usate, di avere le applicazioni più usate sulle SSD e le applicazioni meno usate sull'hard disk L'iMac da 21 offre un processore i5 quad core da 2,7 GHz con turbo booster fino a 3,2 GHz con una RAM da 8 GB un disco rigido 1 tera configurabile in Fusion Drive aggiungendo mi sembra 200€ al prezzo base e un NVIDIA GeForce 640M con 512 MB di memoria integrata poi c'è la configurazione con processore diciamo con prestazioni migliori quella a 2,9 GHz sempre turbo boost fino a 3,6 GHz 8 GB di RAM sempre disco rigido da 1 TB NVIDIA GeForce 6500M 512 MB di memoria dedicata la gamma da 27 invece non varia a livello di performance ma bensì solo a livello di grandezza dello schermo varia soltanto la scheda video è un pochino più potente e poi vabbè logicamente c'è anche il modello più avanzato da 3,2 GHz vabbè monta sempre un Intel Quad Core 2,9 GHz turbo boost fino a 3,6 GHz 8 GB di memoria RAM un disco rigido da 1 tera sempre configurabile in Fusion Drive come vi ho detto prima andando su Seleziona poi vi comparirà un nuovo menu dove vi farà configurare la tastiera e il mouse wireless vi farà comprare un pacchetto se volete poi NVIDIA GeForce GTX 650M con 512 MB di memoria dedicata poi invece la versione da 3,2 GHz sempre 27 pollici Intel Core i5 Quad Core 3,2 GHz turbo boost fino a 3,6 GHz 8 GB di memoria RAM disco rigido da 1 tera NVIDIA GeForce GT 675 MX con 1 GB di RAM dedicata come possiamo vedere quando si seleziona possiamo modificare tante cose all'interno del computer ad esempio la RAM la possibilità di avere un Fusion Drive cioè una memoria in pratica un sistema logico che permette di archiviare dati meno utilizzati sul hard disk dati più utilizzati sull'SSD e possiamo configurarla con le varie grandezze poi abbiamo la possibilità di comprare un Apple USB Super Drive cosa vi consiglio perché vi servirà di configurare Magic Mouse o Magic Trackpad il Magic Mouse è un semplice mouse normale che permette un normale utilizzo invece il Magic Trackpad è un pochino più complicato perché sarebbe il trackpad dei computer io ve lo sconsiglio vi consiglio invece il mouse normale l'Apple Magic Mouse perché è semplice e intuitivo da usare poi la tastiera potete configurare tra la tastiera filo oppure Bluetooth ad esempio io quando ho comprato il mio Mac ho configurato quella Bluetooth perché diciamo è la migliore quella con il filo ha anche il tastierino numerico andando in fronte alla pagina potremmo comprare il pacchetto iWork oppure solo un singolo programma la iWork la suite di editing file di testo file Excel e file PowerPoint cioè i rispettivi pages per i file Word numbers per i file Excel keynote per i file PowerPoint poi qui vabbè c'è la possibilità di comprare l'Apple Care e vari altri accessori stampanti Apple TV questo computer è un design molto affascinante adatto per stare sia in casa che in ufficio si adatta a tutti i tipi di ambienti è un computer professionale ma anche per uso casalingo è un computer stupendo io ve lo consiglio è un ottimo computer è stato ridisegnato da poco quindi anche questo design che è anche diciamo molto compatto essendo un computer desktop cioè avendo tutto in un solo computer purtroppo non ha masterizzatore ma l'iPhone come sempre ci dà il suo rimedio di super drive di USB che comunque anche se è un pochino dispendioso ma questo diciamo super drive esterno comunque come computer è un computer ottimo ce l'ho tuttora lo sto utilizzando lo utilizzo per fare i migliori montaggi e mi ci trovo abbastanza bene come ho detto prima è un computer utilizzato può essere utilizzato sia per uso professionale che per uso casalingo per ora è tutto da Stefano ciao